Un'importante opportunità di recupero per i disabili seguiti dall'Inail passa attraverso lo sport grazie ad una convenzione con il Comitato Italiano Paralimpico. Lo sport è un veicolo fondamentale di riabilitazione e di integrazione per i disabili. Questa è la filosofia che sta alla base del protocollo sottoscritto a livello nazionale da Inail Comitato Italiano Paralimpico che coinvolge le persone disabili in conseguenza di un incidente sul lavoro o di una malattia professionale, offrendo loro un'importante opportunità di recupero. A livello regionale il protocollo è stato sottoscritto ad Aosta dal direttore della sede Inail Giuseppe Villani e dal delegato del Comitato Paralimpico Michele Tropiano. Oltre all'attività di informazione che verrà data allo sportello, in stretta sinergia con il nostro funzionario socioeducativo si sarà a disposizione per il concreto avviamento dell'attività sportiva delle persone disabili assistite dall'Inail Comunque. Per il momento il quadro delle attività sportive disponibili riguarda lo sci, il curling, il ciclismo e l'equitazione. Lo sport come riqualificazione, lo sport come riabilitazione alla vita sportiva ma anche sociale perché la persona poi vive in una comunità, si confronta e ha la possibilità di rimanere fra la gente, non isolarsi. Per chi è interessato ogni terzo mercoledì del mese presso la sede Inail Di Aosta sarà attivo uno sportello che fornirà informazioni e orientamento. Lo seguirà Emanuele Spelazzi impegnato nella Disvale in vari progetti che hanno al centro i disabili e lo sport. Ogni terzo mercoledì del mese dalle 10 e mezzogiorno per raccogliervi e vedere se c'è la possibilità di fare qualche corso sportivo.